Il dramma di nuovo. Il dramma di nuovo è impegnato in una sfida con la cultura, una cultura che non gli appartiene, ma finalmente siamo a casa. Dove siamo? Nell'Occidente decadente. Finalmente lo devo preoccuparci di cosa mangiare, di come vestire, di come comportarsi, lui ci dirà a tutti. Dove siamo? Siamo Isamore, a Tatouk. E per finire. Quarta orizzontale. Ciao mamma.